Fratelli Fabrocino, leader nella distribuzione di prodotti Algida Gelati e Bistefani Prima Colazione. Algida, dai classici intramontabili. Cornetto Algida, Cucciolone, Magnum, alle ultime novità. Bistefani, il meglio per la colazione, con cornetti di alta qualità. Cerca i nostri prodotti nei migliori bar e attività commerciali della tua città. Se hai un'attività e sei interessato ai nostri prodotti, contattaci allo 089 80 21 012 oppure scrivi a info at fratelli fabbrocino srl punto it.